Assessore Cuzzi, parliamo del mercato di Piazza Muzzi, un mercato soggetto a lavori che partiranno da qui a breve, ma c'è stato anche qualche problema negli ultimi tempi con una vida piuttosto molesta, qualche danno ai bagni, però niente di trascendentale. Ci sono dei lavori che attengono alla manutenzione, quindi dei lavori che vengono fatti anche a seguito delle abbondanti piogge e nevicate che abbiamo avuto nel mese di gennaio per un importo che è inferiore a 40.000 euro, quindi che dipende da infiltrazioni e altre piccole accortezze all'interno del mercato e poi c'è stato sicuramente un atto vandalico che ha portato alla rottura di uno dei bagni a servizio dell'utenza del mercato di Piazza Muzzi. Non parlerei di movida molesta perché diciamo che dopo gli accorgimenti che sono stati presi con gli operatori, con le forze di Polizia Municipale, col posto interforse, quindi col coordinamento di tutte le forze dell'ordine, oggi Piazza Muzzi sicuramente non porta alla cronaca degli episodi di violenza ma sicuramente una movida che deve essere ancora educata per una convivenza felice con quelli che sono poi anche i residenti che hanno diritto al riposo. Abbiamo pubblicato il bando per il bar che scade proprio oggi, il primo marzo, quindi arriveranno sicuramente le proposte che porteranno all'allestimento di un ulteriore punto all'interno del mercato commerciale e poi ci saranno altri due spazi che metteremo presto a bando per completare quella che è l'offerta della Galleria Food che vuole porsi come un momento di eccellenza enogastronomica del territorio ma anche di organizzazione di eventi di qualità. Grazie. Grazie. Grazie.